Una vittoria importante contro una squadra di vertice? Sì, noi diciamo che al di là della squadra di vertice, da quando io sono arrivato, avendo veramente piena fiducia della società, stiamo lavorando su dei principi di gioco che ci stanno contraddistinguendo fino ad oggi. Noi portiamo in campo gli allenamenti che facciamo durante la settimana, basati tutti sul possesso e del recuperare la palla più velocemente possibile. Quindi puntiamo tanto sulla prestazione. Ho trovato un gruppo giovane, ragazzi tecnicamente forti, quindi abbiamo improntato questo nostro lavoro su questo tipo di gioco e devo dire che ci sta dando anche degli ottimi risultati. Abbiamo perso dei punti per strada per magari qualche gol sbagliato in più sottoporta. Però è chiaro che il lavoro alla lunga paga. Giocando poi contro queste squadre e vedendo il tipo di gioco che esprimiamo è ancora più importante, è ancora più soddisfacente sia per me che per i ragazzi vedere il lavoro che facciamo durante la settimana. Mister, una squadra che gioca così come ha fatto oggi non merita di stare in fondo alla classifica? Ma purtroppo la società è partita inizialmente con altri programmi. Io posso parlare della mia gestione che ad oggi è all'incirca un mese e mezzo. Abbiamo insieme alla società, nel mio staff, abbiamo cercato di aggiustare un po' le cose. Magari se partivamo dall'inizio sicuramente non stavamo lì in fondo. Però comunque noi ci piace molto portare sui campi, ecco al di là del risultato che è importante, quindi salvarsi, la prima cosa è importante. Però è importante anche con un gioco, soprattutto per valorizzare i calciatori. Calciatori che ha a disposizione, che sono ragazzi, torno a ripetere, parecchi di questi ragazzi giovani che meriterebbero anche altre categorie. Una particolarità, il Plaianum tutti i punti li ha conquistati in casa. È ora di vincere anche fuori? Sì, come dico sempre ai ragazzi, adesso questo nostro gioco lo dobbiamo iniziare a portarlo anche fuori casa. Però è chiaro che, ti ripeto, da un mese e mezzo il tempo non è stato tantissimo da quando sto qui. Però già le partite fuori casa stiamo migliorando di prestazione in prestazione. Infatti l'ultima partita a Sant'Agnello magari meritavamo qualcosa in più. Abbiamo sprecato un po' troppo sotto porta. Però la strada è giusta, la strada è questa. Ci sono tutte le componenti per fare un grosso campionato e soprattutto per esprimere un gioco, un calcio, per far divertire loro, soprattutto che giocano.